Gianluigi Radio Vacanze, sono qui al cuore della Maria di Corsuoli, dove c'è l'imbarco per l'isola di Ischia. Siamo per andare a mangiare uno dei tanti ristoranti del gruppo che abbiamo scelto, che era un menù a base di pesce perché ovviamente il territorio lo prevede. E poi il poverice la sua fatale, comunque ancora tanto da scoprire e soprattutto non perdete queste bellissime immagini. Gianluigi Radio Vacanze.